buongiorno buongiorno mi dica allora io vorrei organizzare un viaggio no non ho capito mi scusi sarà presente quei viaggi esotici no 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 dovrebbe essere più chiaro mi scusi che cosa vorrebbe fare lei io vorrei fare del turismo del turismo sessuale del turismo sessuale del turismo sessuale perché non ve l'ha detto subito complimenti bravo bravo un bel viaggio esotico ragazze magari minorenni no ci siamo capiti subito senta e quando vorrebbe partire ma il prima possibile senta e che gli dice di farlo subito benissimo certo perfetto ragazzi allora ragazzi il signore vuole fare subito del turismo sessuale mi raccomando lo affido a voi ce ne occupiamo no buon viaggio buon viaggio turismo sessuale un errore grossolano buon viaggio Grazie a tutti.